Potrebbero essere quattro i ladri che questa notte hanno svaliggiato un distributore abitonto nei pressi della via che conduce a Giovinazzo sulla poligonale che gira attorno alla città. Secondo quanto rilevato dai carabinieri che stanno seguendo il caso, i ladri sono entrati negli uffici della stazione di servizio Camer attorno a mezzanotte sfondando un muro sul retro dell'edificio. Obiettivo la cassaforte con l'incasso di giornata la cui entità è ancora in corso di valutazione. Per sradicare il contenitore blindato i malviventi hanno dovuto perdere parecchio tempo, quasi due ore secondo i militari durante le quali sarebbe anche suonato l'allarme. Nessuno avrebbe però dato peso all'antifurto visto che i ladri alle spalle dell'edificio non erano visibili dalla strada. A riprendere le fasi del furto le telecamere del circuito di videosorveglianza del distributore che hanno immortalato due delle persone che facevano parte del gruppo ma gli inquirenti sono certi della presenza di altri due complici. Dopo essere riusciti a sradicare la cassaforte i ladri sono scappati da dove erano arrivati attraverso le campagne dove con ogni probabilità un'auto li attendeva per condurli al sicuro. Il furto alla camera di Bitonto è purtroppo solo l'ultimo in ordine cronologico di una lunga serie di attacchi alla stessa stazione di servizio culminati alcuni mesi fa con due rapine fotocopia le cui immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza del distributore hanno fatto il giro dei Tg nazionali per la ferocia con cui i criminali avevano aggredito i dipendenti in servizio.